Appuntamento oggi e domani a Gela con la Mela di Aism per sostenere la ricerca sulla sclerosi multipla. I volontari si sono organizzati per distribuire i sacchetti di mele confezionati in una busta rossa. Hanno collocato i loro stand in Piazza Umberto I, in Via La Paz, Via Le Corte Maggiore, Via Venezia, Via Palazzo e nei pressi delle chiese San Giovanni Evangelista, Carmine, Salesiani e Sant'Antonio. In 3.000 piazze italiane ritorna la Mela di Aism. Siamo qui per raccogliere fondi, per sostenere la ricerca scientifica e fermare finalmente la sclerosi multipla. I fondi raccolti saranno destinati sia in parte alla ricerca, in parte per finanziare i servizi che noi offriamo alle persone con sclerosi multipla. Per sostenere la ricerca bisogna offrire un contributo. Un sacchetto di mele ha il costo di 9 euro, naturalmente è un costo simbolico perché la persona non acquista le mele ma acquista un valore. Ripeteremo domani l'iniziativa, domani ci troverete in molte parrocchie di Gela. I gelesi finora hanno risposto bene al tradizionale appuntamento annuale con la raccolta fondi. La gente aderisce perché la gente, soprattutto i gelesi, in tutta la provincia di Caltanissetta sono parecchio sensibili. I gelesi finora hanno risposto bene al tradizionale appuntamento annuale con la raccolta fondi.